Ripartono i lavori della consulta per le pari opportunità del Comune di Grotta Mare. Per il nuovo quinquennio amministrativo è stato costituito l'organo di coordinamento. Lina Lanciotti è la nuova Presidente oggi qui con noi insieme a Monica Pomili, Assessore all'Inclusività. Monica, su cosa si focalizzerà questa nuova programmazione? A fine ottobre abbiamo ricostituito la nuova consulta con il nuovo direttivo perché ogni quinquennio viene rinnovato il Presidente e la Vicepresidente con tutti gli organi. Quest'anno nelle varie riunioni e incontri che abbiamo fatto si è deciso fondamentalmente di sviscerare un tema in tutte le sue sfaccettature. Di fatti quest'anno partiremo con il tema del corpo già dal 25 novembre. Una cosa fondamentale che non verrà modificata ma come non verranno modificate tante altre cose costruite in questi dieci anni con le pari opportunità è il tema dei ragazzi. Pertanto già con il nuovo evento del 25 novembre andremo nelle scuole perché crediamo che sia fondamentale ripartire e cominciare da loro, focalizzare su questi temi, sul tema della parità, sul tema del rispetto e sul tema dell'inclusione. Sono temi fondamentali su cui con la consulta ogni anno cerchiamo di sensibilizzare la cittadinanza e quindi contemporaneamente anche i ragazzi a scuola. Pertanto nelle scuole avremo questi incontri e il continuo di un progetto che è la panchina rossa installata nel quartiere Valtesino a seguire delle altre panchine installate nella città. Anche questo è un modo che la consulta ha sempre portato avanti per sensibilizzare il tema del femminicidio. Lina, lei sarà affiancata da Maria Rita Bartolomei proprio nel ruolo di vicepresidente. Sì, sono contenta di rivestire questo ruolo in sostegno dell'assessorato alle pare opportunità anche perché mi dà modo di continuare il progetto della mia vita che da sempre è stato rivolgere uno sguardo alle donne in difficoltà. Già nel 1980, voglio ribadire questa cosa perché è stato un gruppo di donne, il collettivo donne di Grotta a Mare, è stato un gruppo di donne che veramente ha cambiato alcune situazioni nel paese, ha cercato di ampliare gli spazi di dialogo e di coinvolgimento anche dell'istituzione del comune. Questa amministrazione con due consigliere, Assessore Martina e Assessore Monica, è riuscita ad aggregare molte donne giovani e motivate che sono entrate nella consulta con la voglia di fare, di lavorare. Dai tempi del collettivo sono cambiate tante cose, i servizi sociali sono aumentati sicuramente, però la piaga delle donne rimane sempre il femminicidio, ne muoiono tantissime, non solo in Italia ma in tutto il mondo, solo nel 2023 ne sono state uccise 76 donne e questa è veramente una piaga da risolvere, anche se ci sono leggi buone, ma bisogna cambiare una certa mentalità entrando nelle scuole, come diceva Monica. Voglio fare una precisazione, la consulta è a politica e a religiosa, nel senso che andiamo al di là di certi valori che non coinvolgono le donne ma sono trasversali alle donne. Noi ci rifacciamo anche a dei principi europei, come portare avanti l'integrazione delle donne nel mondo del lavoro, nella società, cercare di lavorare sui diritti che le donne hanno e cercare comunque e sempre di fare squadra nella consulta per poi investire il nostro lavoro anche nel territorio. Ecco, grazie. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.